Oggi abbiamo visto la presentazione di un bando, di un avviso molto importante dove si va in qualche modo a intercettare, come il decreto 81 ci dice, tutti gli organismi intermedi, quindi quei sindacalisti, quei sindacati, quelle organizzazioni datoriali che in qualche modo possono informare i propri addetti per dare risposte ai lavoratori. Questo credo che sia l'indirizzo che in qualche modo giusto per dare risposte che avvengono meno incidenti possibili. In Italia è molto fastagliata, abbiamo praticamente un 95% che sono piccole e medie aziende, dobbiamo essere più capillari possibili per penetrare tutto il tessuto perché dobbiamo in qualche modo arrivare a questo obiettivo del 2050 che è zero vittime sul lavoro.